Nessun perdono per nessuno, così la mamma di Otello Stefanini, uno dei tre carabinieri uccisi dalla banda della Uno Bianca, la cerimonia per il ventunesimo anniversario della strage del pilastro, il commento alla ricente richiesta di semidivertà di uno dei killer. Non c'è pace per i pensionati, sempre più spesso nel mirino dei truffatori, l'ennesimo raggiro ieri in zona Santa Viola dove un novantenne è stato derubato di soldi e gioielli da un finto vigile urbano. Diffusi oggi i dati sull'inflazione nel mese di dicembre, città per città, sorpresa, a Bologna il tasso risulta stabile, ma in realtà i preti di molti prodotti, carburanti in testa, sono aumentati parecchio. Scatta domani in Emilia-Romagna la stagione dei saldi invernali, i commercianti sperano in una boccata di ossigeno, ma le associazioni dei consumatori prevedono un flop. Sport, basket, la Virtus vince per la settima volta consecutiva in casa, 70-62 il punteggio finale contro Casale Monferrato, ora i bianconeri sono a soli due punti dalle capolista. Buonasera dalla redazione di ETV, nuovo appuntamento con ETG Bologna. Sono passati 21 anni dall'eccidio del pilastro. Il 4 gennaio del 1991 i tre carabinieri, Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini furono uccisi dai killer della banda della Uno Bianca. Questa mattina, come ogni anno, c'è stata la cerimonia per ricordare la strage. Un anniversario contrassegnato ancora una volta dalle polemiche per la recente richiesta da parte di uno dei killer della banda di ottenere la semilibertà, il primo dei nostri servizi. Tre agnelli immolati per la purificazione della società. Così il cappellano dei carabinieri, Don Giuseppe Grigolona, definito Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, i tre giovani carabinieri trucidati dalla banda della Uno Bianca il 4 gennaio 1991 al pilastro. La messa, nella chiesa di Santa Caterina da Bologna, come sempre gremita di autorità, parenti delle vittime e cittadini, ha anticipato la cerimonia di commemorazione del ventunesimo anniversario dell'eccidio davanti al cipo di Via Casini. Don Grigolona ha ricordato anche Umberto Enriu e Cataldo Stasi, altri due militari dell'arma, uccisi dalla banda della Uno Bianca a Castelmaggiore nell'88. Nella sua omelia il sacerdote ha più volte invocato la pace, spiegando che l'uomo da solo non riesce a raggiungerla con le sue forze, ha bisogno di un aiuto dall'alto. Una pace che per chi ha perso un figlio o un fratello fatica a diventare perdono, come dirà ancora una volta Anna Maria Stefanini, la mamma di Otello, sempre presente da 21 anni alla commemorazione. E alla madre di Marino Occhipinti, uno dei killer che sta scontando l'ergastolo e che ha chiesto perdone ai familiari delle vittime, risponde nessun perdono, bisognerebbe buttare le chiavi. A portare un mato di fiori davanti al cippo quest'anno c'era anche Alessandra Moneta, sorella di Andrea. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Virginio Merola, la presidente della provincia di Bologna Beatrice Draghetti, il prefetto Tranfaglia, il PM Walter Giovannini, oltre al generale Vittorio Tomasone, comandante regionale dei Carabinieri, e al colonnello Alfonso Manzo, che guida il comando provinciale. E come dicevamo, sulla cerimonia di questa mattina, aleggiava inevitabilmente la notizia che Marino Occhipinti, uno dei killer della banda condannato all'ergastolo, ha recentemente chiesto la semilibertà. Netta la risposta della mamma di Otello Stefanini e degli altri parenti delle vittime. Sentiamo le interviste. Non posso dirmi questo, non ce la faccio, e sarei ipocrita se dico che perdono, io non perdono nessuno. Le parole rotte dalla commozione di Anna Maria Stefanini, la mamma di uno dei tre Carabinieri uccisi al pilastro dalla banda della Uno Bianca, dicono tutto. È difficile, se non impossibile, per i familiari delle vittime, accettare che uno dei killer della banda possa ottenere la semilibertà. Marino Occhipinti, condannato per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari, commesso nell'88, sta scontando l'ergastolo nel carcere di Padova. Ha già ottenuto alcuni permessi premio e ora, come prevede la legge per i condannati all'ergastolo dopo 20 anni di reclusione, può chiedere la semilibertà. La decisione del Tribunale arriverà nelle prossime settimane. Sì, lo so, Occhipinti ha chiesto questo permesso e vabbè, la semilibertà, noi ne prendiamo atto. Abbiamo sempre detto che volevamo giustizia, non vendetta. E di conseguenza, se questa è la giustizia, ne prendiamo atto. È indubbio che lui la sua colpa ce l'ha e ce la porterà per tutta la vita. Non vorrei commentare perché si approfitta di queste giornate di ricordo per tornare alla ribalta. Questo è il mio commento. Tutto il resto è noia e confido nella magistratura. Quanto al resto della banda, che dall'87 al 94 lasciò una scia di sangue fra l'Emilia Romagna e le Marche uccidendo 24 persone, i tre fratelli Savi, di cui due ex poliziotti, sono tutti in carcere all'Ergastolo, mentre Pietro Gugliotta ha scontato la sua pena e ora è un uomo libero. Ora passiamo alla cronaca cittadina. Ancora un raggiro, purtroppo, a una persona anziana a Bologna. È successo ieri pomeriggio in Via Calda, zona Santa Viola, dove un uomo di 90 anni è stato derubato di 250 euro e di alcuni gioielli da due truffatori, uno dei quali si è spacciato per vigile urbano. La truffa è cominciata con uno squillo al campanello di case, un finto postino che lo ha fatto scendere per firmare una raccomandata. Nell'atrio il pensionato non ha trovato nessuno, ma lungo le scale ha incrociato un uomo che ha detto di dover fare una verifica per la raccolta differenziata. Con questa scusa è entrato nell'appartamento, poi è comparso il secondo truffatore che si è presentato appunto come un agente della polizia municipale, ha chiesto al novantenne dove custodisse soldi e preziosi per controllare che non ci fossero ammanchi, poi se n'è andato. Solo più tardi l'anziano si è accorto del furto che ha denunciato alla polizia. E ora parliamo di prezzi, sono stati diffusi oggi i dati sull'inflazione città per città nel mese di dicembre. A sorpresa a Bologna il tasso mensile risulta stabile, ma in realtà i prezzi di molti prodotti, soprattutto dei carburanti, sono aumentati. Vediamo. Un vero salasso per quanto riguarda i carburanti, benzina e diesel, ma anche i prodotti alimentari sono diventati più costosi. Questi in sintesi i dati sul costo della vita a Bologna nel mese di dicembre, non certo una sorpresa per chi ogni giorno deve fare il pieno o la spesa al supermercato. In realtà, dati alla mano, a dicembre l'inflazione risulta stabile e la variazione mensile dei prezzi al consumo, che misura aumenti e diminuzioni rispetto al mese precedente, risulta nulla. La crescita dei prezzi di alcuni prodotti tuttavia c'è. Rincari consistenti, infatti, hanno interessato i prezzi dei prodotti petroliferi, più 2,1% alla variazione mensile, più 15,8%, quella tendenziale. Gasolio per auto, più 5,8%, la variazione mensile, più 23,8%, quella tendenziale. Benzina verde, più 1,6%, la variazione mensile, più 14,8%, quella tendenziale. Anche l'alimentazione registra un tasso mensile in salita, più 0,2%, mentre quello tendenziale è al 4,8%. Il dato stabile dell'inflazione deriva dalla diminuzione dei prezzi in alcune altre categorie, forse anche per via della crisi. Calano i costi per alloggi, servizi ricettivi e ristorazione. In diminuzione, infine, anche le spese per i servizi sanitari e per la salute. E sempre in tema di acquisti, sta facendo discutere il decreto sugli orari di apertura dei negozi voluto dal governo Monti. La Confesercenti e la Lega Nord parlano di una liberalizzazione che va tutta a vantaggio della grande distribuzione a discapito delle botteghe. Vediamo il servizio. La Regione Emilia-Romagna faccia ricorso alla Corte Costituzionale contro la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, perché le aperture ininterrotte dei negozi non faranno aumentare i consumi né l'occupazione e daranno un colpo di grazia al piccolo commercio a vantaggio della grande distribuzione. Lo chiedono sia la Confesercenti regionale che il consigliere della Lega Nord in Viale Aldomoro e in Comune a Bologna, Manes Bernardini. Gli orari completamente liberi, dicono, favoriranno solo la grande distribuzione, che detiene già una quota di mercato di oltre il 70% nel settore alimentare, a danno del piccolo e medio dettaglio e dei mercati. Inoltre, con la totale assenza di regole, si affermerà solo la regola del più forte e del più furbo e non si garantirà certo la concorrenza. C'è poi una questione rilevante sia sul piano formale che su quello sostanziale. La riforma del titolo quinto della Costituzione ha attribuito da tempo alle regioni la competenza sulle materie relative a commercio e turismo, che quindi di fatto vengono espropriate di tali prerogative, visto che ormai Governo e Parlamento stanno intervenendo in modo generale in materia commerciale. L'Emilia Romagna tuona Bernardini deve tutelare il piccolo commercio e le nostre botteghe, che sono prevalentemente a conduzione familiare. Quindi il Presidente della Regione Vasquerrani impugni il provvedimento governativo alla Corte Costituzionale per difendere il nostro tessuto commerciale e la competenza esclusiva in materia. Restiamo in tema perché da domani a Bologna e in tutta l'Emilia Romagna comincia la stagione dei saldi invernali. Gli operatori del commercio sperano in una boccata di ossigeno in questo periodo di crisi, ma le associazioni dei consumatori non sono così ottimiste. Al via giovedì 5 gennaio in tutta l'Emilia Romagna la stagione dei saldi invernali destinata a chiudersi il 4 marzo. In occasione delle svendite riparte anche l'iniziativa di Confcommercio Ascom Bologna, ribattezzata a saldi tranquilli e destinata a garantire la massima trasparenza per i consumatori. La data del 5 gennaio come avvio dei saldi è stata scelta per uniformare il più possibile a livello nazionale il giorno di partenza per gli sconti. Confcommercio Ascom Bologna è ottimista e prevede per quest'anno un'ampia offerta di sconti interessanti e questo potrebbe anche rappresentare il tanto atteso segnale di inversione di tendenza, secondo il numero 1 dell'associazione Enrico Postacchini. In base a una stima dell'ufficio studi di Confcommercio su scala nazionale, con le svendite invernali ogni famiglia spenderà in media 403 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento e accessori, pari a 6,1 miliardi di euro, cioè il 18% del fatturato annuo del settore, una stima più o meno sugli stessi livelli dell'anno scorso. In media, secondo la stessa indagine, ogni persona spenderà 168 euro, un'ipotesi che però viene giudicata ottimistica dalle associazioni dei consumatori, mentre per Confesercenti i commercianti si attendono una leggera flessione. Il Codacons, al contrario, prevede un clamoroso flop per i prossimi sconti stagionali, sostenendo che solo il 40% delle famiglie potrà permettersi qualche acquisto e la spesa pro capite si attesterà sui 110 euro, così da portare, in base ai primi risultati emersi da una propria indagine, un calo delle vendite che raggiungerà quota meno 30% rispetto ai precedenti saldi invernali. Restano intanto valide le regole d'oro per evitare bufale, a partire dall'indicazione obbligatoria per il negoziante del prezzo, quello normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Alcune notizie di cronaca. Una 32enne di origine sarda, Maria Cristina Cozza, è stata arrestata dai carabinieri per una rapina, è venuta ieri pomeriggio all'hotel San Vitale, nel centro di Bologna. Approfittando dell'assenza del personale alla reception, ha trafugato il cellulare e il portafogli di una responsabile dell'albergo, che però se ne è accorta. Vista si scoperta, la ladra ha aggredito la commerciante, sferrandole un calcio al torace per poi darsi alla fuga con il bottino. I carabinieri l'hanno catturata poco dopo, lungo via San Donato. Grave incidente stradale questa mattina all'alba, in via Benedetto Marcello, all'angolo con via della Foscherara. Nello scontro fra due auto, una Peugeot e una Kia, è rimasta gravemente ferita una donna di 36 anni, di origine romena. Portata all'ospedale maggiore, è ricoverata in sala di animazione, con prognosi riservata. Al momento dell'incidente l'incrocio era regolato dal semaforo lampeggiante. E ora ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo altre notizie. Di nuovo in studio con ETG Bologna, prima di proseguire rivediamo insieme i titoli del nostro sommario di questa sera. Nessun perdono per nessuno, così la mamma di Otello Stefanini, uno dei carabinieri uccisi dalla banda della Uno Bianca, alla cerimonia per il ventunesimo anniversario della strage al Pilastro, in commento alla recente richiesta di semilibertà di uno dei killer. Non c'è pace per i pensionati, sempre più spesso nel mirino dei truffatori. L'ennesimo raggiro in zona Santa Viola, dove un novantenne è stato derubato di soldi e gioielli da un finto vigile urbano. Diffusi oggi i dati sull'inflazione nel mese di dicembre, città per città, sorpresa, a Bologna il tasso risulta stabile, ma in realtà i prezzi di molti prodotti, carburanti in testa, sono aumentati parecchio. E intanto domani scatta in Emilia-Romagna, anche a Bologna, la stagione dei saldi invernali. I commercianti sperano in una boccata di ossigeno, ma le associazioni dei consumatori prevedono un flop. Per il basket la Virtus vince per la settima volta consecutiva in casa, 70-62 il punteggio finale contro Casale Monferrato. Ora i bianconeri sono solo a due punti dalle capolista. E ripartiamo, andiamo avanti col telegiornale, ripartiamo proprio da quest'ultima notizia, perché ieri sera nel campionato di Serie A la Virtus Bologna ha battuto, come dicevamo, Casale Monferrato all'unipolarina di Casalecchio per la cronaca della partita. La sentiamo Roberto Martini. La Virtus ha vinto nel finale in maniera anche un po' rocambolesca, lo scarto non è quello giusto, non sono gli otto punti quelli reali di una partita a lungo equilibrata e poi comandata da Casale con 11 punti nell'ultimo quarto. Ma è stato il primo quarto della partita, quello veramente orrendo e orribile, che ha abbassato la media punti segnata dalle due squadre. 12 a 9, dopo dieci minuti dà l'idea di che partita potesse essere questa con Casale. Una squadra Casale molto capace di chiudere tatticamente la Virtus, ha tolto le penetrazioni a Poeta, ha sfidato la Virtus nel tiro da tre punti e la Virtus non era ingiornata e non è squadra da grande tiro da tre punti e di conseguenza la partita è filata via sull'equilibrio. Poi nel terzo quarto Gentile, il meno importante dei due fratelli Gentile, ha messo a segno punti importanti, si è scossa ulteriormente la squadra di Casale che è volata via nell'ultimo quarto con 11 punti di vantaggio. Ma questa Virtus ha grandi qualità morali, mentali, una forte concentrazione, la capacità di giocare serenamente. Finelli è stato molto bravo anche tatticamente a ingabbiare Shakur e di conseguenza la Virtus ha un po' recuperato. Poi nel finale tutto si decide come sempre sugli episodi, gli episodi sono firmati da Sanichilze che controlla un rimbalzo offensivo tra uno sbaglio e segna e poi mette a segno un tiro da fuori. Quindi Virtus che vince, Virtus che vola al terzo posto della classifica e tornerà in campo domenica contro quella Scavolini-Pesaro capace ieri di vincere a Siena. Quindi una partitissima, quella di domenica, Scavolini-Virtus. E sempre per il basket, questa sera riparte il campionato di Lega 2 dopo la sosta natalizia con l'anticipo della quattordicesima giornata di andata in programma al Palacredito di Romagna fra Marco Polo Shop.it Forlì e Giorgio Tesigroup Pistoia. La partita sarà trasmessa a partire dalle 20.30 in diretta, in esclusiva, sulla nostra rete, sul canale 10 del Digitale Terrestre e sul nostro canale satellitare 829 sulla piattaforma di Sky. Cambiamo argomento, compie oggi 76 anni il Vescova Ausiliare Emerito della Diocesi di Bologna, Monsignor Ernesto Vecchi. Monsignor Vecchi è delegato della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna per le Comunicazioni Sociali e dal 2007 è anche presidente dell'Opera Madonna della Fiducia e della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. Gli auguri di buon compleanno a Monsignor Vecchi ovviamente da parte di tutta la redazione di ETV. Ora ci fermiamo ancora per la pubblicità e ci rivediamo subito dopo. Siamo in chiusura, c'è tempo solo per rivedere insieme i titoli del nostro sommario di questa sera. Nessun perdono per nessuno, così la mamma di Otello Stefanini, uno dei carabinieri uccisi dalla banda della Uno Bianca alla cerimonia per il ventunesimo anniversario della strage al pilastro. Il commento è la recente richiesta di semilibertà di uno dei killer. Non c'è pace per i pensionati, sempre più spesso nel mirino dei truffatori, l'ennesimo raggiro ieri in zona Santa Viola dove un novantenne è stato derubato di soldi e gioielli da un finto vigile urbano. Diffusi oggi i dati sull'inflazione nel mese di dicembre, città per città, sorpresa Bologna il tasso risulta stabile ma in realtà i prezzi di molti prodotti, carburanti in testa, sono aumentati parecchio. E intanto domani scatta in Emilia-Romagna la stagione dei saldi invernali, i commercianti sperano in una boccata di ossigeno ma le associazioni dei consumatori prevedono invece un flop. Sport, basket, la Virtus vince per la settima volta consecutiva in casa, 70-62 il punteggio finale contro Casale Monferrato, ora i bianconeri sono a soli due punti dalle capolista. Ed è davvero tutto per il Tg di questa sera, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata su ETV.